E' stata la Prefettura di Salerno a chiarire come sarà guidata sul piano amministrativo la città di Pagani dopo il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale. Vista l'ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore depositata in data 9 ottobre 2019 e passata in giudicato, con la quale il Sindaco è stato dichiarato decaduto dalla carica di Sindaco ai sensi dell'articolo 143,11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, si legge nel Decreto Presidenziale, ritenuto che ai sensi dell'articolo 53,1 sempre dello stesso Decreto Legislativo del 2000 numero 267 ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza e su proposta del Ministero dell'Interno decreta sciolto il Consiglio Comunale di Pagani. Dunque sulla scorta dell'articolo 53 cui fa riferimento anche il Decreto del Quirinale, la Prefettura di Salerno nella nota di accompagnamento inviata a Palazzo San Carlo a firma del Vice Prefetto Amendola precisa che ai sensi della normativa vigente restano in carica fino alle prossime elezioni del 2020 il Consiglio Comunale e l'Aggiunta. A precisarlo ancora una volta il Sindaco facente funzioni, Anna Rosa Sessa. Il Consiglio Comunale non è da ingigantire, il Consiglio Comunale come da articolo 53 del testo unico degli enti locali il Presidente della Repubblica ha chiarito, è sciolto per far sì che si vada a nuove elezioni ma appunto fino alle nuove elezioni reggono il Consiglio Comunale con l'Aggiunta in carica e il Vice Sindaco che è facente funzioni. Quindi si va a votare a maggio? Si va a votare a maggio, a maggio anche prima lo dirà il Ministero.